Ecco il caffè. Momento, prima devo fare questa buca. Ma se ce la mando io così facciamo prima, se no si prende il caffè. Tieni, se ce la mandi ti offro il mio caffè. Ecco la pallina. Vai, deve andare in buca, eh? Ecco così. Ho vinto. Siamo sicuri che è quello buono? È il tuo, è la pazza. E se è mio, perché te lo vuoi bevedere? Eh, il caffè è un piacere. Se se lo beve un altro, che piacere è? Buono, buono. Fidati. Sfido che è buono. È qualità rossa la pazza. Si riconosce dal profumo. Qualità rossa nel pacco da 200 e in quello doppio da 400 grammi che conviene di più. Oh, è la pazza, eh? Più lo mandi giù e più ti dirà su.